I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Arezzo, coadiuvati dalla Polizia Municipale e dal Dipartimento Arpat, hanno portato alla luce una vera e propria impresa che operava ad Arezzo nel settore dei cosiddetti robi vecchie, nel recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza alcuna autorizzazione. In particolare sono state individuate tre distinte aree di notevoli dimensioni, presso le quali un uomo, operante in tutto il territorio provinciale, Era solito stoccare decine di metri cubi di merci e materiali provenienti da sgomberi e dalla raccolta a porta a porta, nonché rifiuti speciali pericolosi e non destinati al successivo recupero o smaltimento. L'attività imprenditoriale non censita alla Camera di Commercio di Arezzo avveniva su aree agricole e di pregio paesaggistico. I carabinieri, durante numerosi sopralluoghi effettuati, hanno constatato che le attività di raccolta, accumulo e recupero di materiali nelle aree in questione fossero a pieno regine, tanto da richiamare persone da ogni dove. L'uomo è stato denunciato per violazione delle norme in materia di leciti edilizie paesistici e per aver svolto attività di raccolta e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza avere alcuna autorizzazione.